Buonasera, come sempre le mie sono solo due parole perché quello che è il nostro scopo con questo che è il quarto di questi incontri che si intitolano appunto costruire comunità è appunto quello di costruire con la cura preziosa di Monica Coretti un patrimonio di idee, un patrimonio di suggestioni che poi speriamo possano trovare anche un esito, un frutto negli anni che seguiranno e quindi è chiaro che i protagonisti sono loro, coloro che dialogano, Monica perché come tutti quelli che fedelissimi hanno già sentito questi incontri ovviamente invita e ha invitato Sabrina nel nostro caso stasera e gli altri che hanno partecipato agli altri incontri proprio con una idea di presentare personaggi di realtà diverse e variegate è ovvio che stasera noi siamo felici di chiudere questo primo ciclo di incontri perché speriamo che ce ne saranno altri con un artista perché siamo in un museo di arte contemporanea e quindi pensiamo che in primo luogo la costruzione di questa comunità diversa che noi immaginiamo, sogniamo ovviamente ognuno la sogna in un modo diverso e soprattutto attraverso il veicolo dei linguaggi artistici che può attuarsi e può dialogare con tante persone come noi speriamo che sia nella missione e nella vocazione di un museo oggi perché il museo oggi non può essere soltanto più soltanto il museo che presenta le tendenze più aggiornate, gli artisti più interessanti deve essere anche uno strumento di conoscenza per pubblici che sono sempre più diversi e variegati e che hanno ciascuno di loro diritto di entrare in questa comunità, voglio chiamarla con il titolo scelto da Monica ma dette queste due parole passerei immediatamente la presentazione di Monica non la faccio perché si è già presentata da sé negli altri incontri ma voglio dire veramente due parole su Sabrina Mezzacqui qui voglio parlare una volta tanto anche orgogliosamente sono molto felice di aver fatto incontrare Sabrina e Monica perché Sabrina è un'artista come alcuni ricorderanno è da tanti anni sempre stata tra i miei interessi nel panorama artistico attuale contemporaneo abbiamo realizzato insieme una mostra bellissima nel 2007 a Castel Sant'Elmo che io ancora ricordo con grande emozione mi viene da dire ancora quelle sale che peraltro oggi non sono neanche più utilizzate perché erano le sale intorno all'auditorio abbiamo da anni ci sono dei lavori che risuonavano del silenzio e dell'intensità delle opere di Sabrina con molta, molta, io non so trovare la parola giusta perché era una grazia che le accompagnava e che accompagnava chi ci si accostava e quindi è un termine poco usuale per definire un'opera d'arte erano opere di tanti materiali diversi ma questo che io chiamo grazia è proprio quell'impegno che Sabrina mette in qualsiasi dei suoi lavori che sono fatti certamente con gli strumenti e con il linguaggio più avveduto della nostra contemporaneità ma sono fatti anche di una fortissima componente della sua riflessione sulla vita e sull'arte perché le due cose non si possono disgiungere e poi vorrei ancora ricordare tante altre occasioni Sabrina è stata come tanti altri artisti in questa mostra collettiva che feci alcuni anni fa a Ravenna sulla guerra e Sabrina presentava dei quaderni di Anna Rent su cui lei aveva ricalcato e credo che quale risposta a quella domanda terribile war is over perché ci avevamo messo un punto interrogativo poteva esserci se non appunto quello di rispondere con un esercizio che era un esercizio di disciplina su se stessi ma anche una riflessione profonda sui pensatori che hanno costruito il nostro oggi e che noi speriamo possano essere le fondamenta del nostro futuro non aggiungo altro e lascio la parola a Monica grazie allora grazie ad Angela come sempre per la sua generosità non solo nell'ospitarci ma proprio nell'accogliere nell'accogliere come istituzione e come persona questo è, come diceva Angela è l'ultimo incontro di questo ciclo costruire comunità e quindi diciamo penso che sia bello anche in questa circostanza fare un po' tirare un po' le fila di quello che è stato l'idea alla base di questi incontri è stato proprio quello di chiedere a personaggi del mondo dell'arte contemporanea qual era stato il loro impegno e quindi la loro opera d'arte il cammino della loro vita nel costruire comunità ho fortemente voluto che ci fossero rappresentanti sia dell'arte e sia delle istituzioni artistiche perché le istituzioni artistiche che normalmente sono preposte al mondo dell'arte talvolta non si parlano tra loro e quindi poiché il museo di arte contemporanea è il luogo di accoglienza stasera parleremo varie volte dei luoghi è il luogo di accoglienza della trasversalità dell'arte dei linguaggi dell'arte ma anche a mio avviso delle istituzioni che si occupano dell'arte e quindi per questo ho voluto scegliere due rappresentanti diciamo di istituzioni che si occupano di arte e due artisti la prima e non a caso diciamo la maggioranza di loro sono donne la prima è stata Anna Ferrino imprenditrice e past president della fondazione CRT Arte di Torino con la quale abbiamo parlato della differenza se esiste una differenza della gestione di potere tra l'uomo e la donna perché lei da imprenditrice appunto si è trovata a diciamo avere a che fare con questa con questa problematica ma la cosa interessante diciamo che è venuta fuori con Anna Ferrino è che le istituzioni bancarie sono spesso esattamente quello che noi non ci auguriamo che fossero cioè sono estremamente cooperative e sono localistiche il che significa che non hanno la visione globale e quindi che i denari che vengono a finanziare sono molto spesso diciamo relegati a determinati territori ma non alla centralità dell'Italia quindi questa è stata una cosa importante che è venuta fuori con Anna Ferrino e il secondo ospite invece è un artista Pesmanta Dayon iraniano e ho voluto fortemente che fosse lui perché amo profondamente questo paese e devo dire che quando ho scelto Pesmanta Dayon non era ancora successo niente quindi voglio dire è stato importante avere la sua visione di una nazione che adesso sta venendo fuori come una grande problematicità la parola chiave per Pesmanta Dayon è stata sinestesia perché Pesman è un artista che è stato capace di fare una miscellane assoluta dei linguaggi artistici ma che ci ha anche fatto vedere diciamo le diversità come ricchezza perché in un paese come l'Iran dove appunto l'arte non è neanche possibile ho detto varie volte che è persino proibito mostrare strumenti musicali alla televisione cioè non far sentire la musica mostrare strumenti musicali alla televisione è proibito quindi per un artista come Pesmanta Dayon che è pittore musicista compositore su musiche diciamo e poesie del medioevo ovviamente è stata una cosa molto difficile ma la parola chiave ripeto è stata sinestesia perché per costruire comunità bisogna accettare le diversità degli altri che siano sia come linguaggi artistici e sia diciamo dal punto di vista etico politico e dell'etnia la terza scusatemi se sto facendo questo escursus però mi sembra importante proprio perché per capire il senso diciamo totale della cosa è stata Michol Forti curatrice della collezione di arte moderna e contemporanea dei musei vaticani e con lei anche sono uscite delle cose molto importanti a mio avviso una parola chiave per me è stata che si è detto che Paolo VI nel 1965 quindi a chiusura del concilio Vaticano II ha usato per gli artisti che aveva invitato in Vaticano la parola amico la parola amico significa guardare l'altro allo stesso livello cosa che naturalmente non è mai avvenuta nella chiesa cioè la chiesa ha sempre guardato in maniera gerarchica e verticale non solo gli artisti ma anche e soprattutto le donne devo dire che ho anche posto questa domanda a Michol che si è molto imbarazzata devo dire perché ovviamente non voleva prendere posizione però una cosa interessante è venuta fuori cioè che ci sono sempre più donne in Vaticano che si occupano e che occupano posizioni chiave e le persone donne sono scelte per la loro competenza e in particolare ci sono tantissime religiose che hanno delle competenze tecniche enormi per esempio lo raccontavo ad Olga poco fa ho avuto il privilegio di conoscere Sor Giuliana che è stata per tantissimi anni la presidente della fondazione arte dell'istituto San Paolo dell'istituto San Paolo un'altra cosa che credo sia molto importante che è uscita fuori dal discorso con Michol è l'importanza della collezione che normalmente quando si va a visitare i musei vaticani non si vede nessuno va a vedere la mostra di arte moderna e contemporanea di musei vaticani che invece però ha una caratteristica molto peculiare e cioè che è l'unica delle collezioni vaticane viva che significa che continuano a acquisire tramite donazioni o acquisizioni opere d'arte cosa molto importante per gli artisti che sono qui presenti non solo è anche viva perché fanno tantissima ricerca mettendo appunto come dicevamo prima in collegamento le varie istituzioni di studio e di ricerca cosa che mi sembra fondamentale perché hanno rapporti sia con istituti di ricerca italiani che esteri detto tutto questo ambaradan vorrei dunque no una cosa fondamentale è questa e cioè che Sabrina Mezzacqui che è la nostra ospite stasera racchiudi un po' tutte le parole chiave che abbiamo che ho nominato poco fa cioè sinestesia perché è un'artista eclettica che utilizza molti strumenti artistici molti linguaggi artistici artistici circolarità perché per Sabrina è molto importante la circolarità del tempo dello spazio e della circolarità delle persone ma anche del rapporto con la natura che mi sembra una cosa molto importante lo vedete già dalle prime cose che vi stiamo facendo vedere e quindi diciamo che la chiusura con un artista la chiusura del ciclo con un artista italiana dello spessore e della poesia questa parola ricorrerà molto stasera di Sabrina Mezzacui mi sembrava importantissimo anche per quello che diceva prima Angela e cioè che la diciamo è importante fare memoria fare memoria dei luoghi e Angela ha sempre avuto uno sguardo molto particolare e attento sull'arte quindi ricordare che uno dei primi delle prime mostre importanti come Assolo che siano state fatte da Sabrina siano state accorte a Napoli mi sembra importante inoltre volevo anche dirvi a proposito dei luoghi che stasera parleremo di luoghi e perché nascere a Isfahan come Pejmantadayon cioè sotto il regime islamico o nascere a Marzabotto è sicuramente molto diverso come una persona che nasce a Milano a Napoli è sicuramente molto diverso Sabrina nasce a Marzabotto Marzabotto è molti di voi lo sapranno meglio di me è il sito archeologico meglio conservato in Europa per gli etruschi e è stato e questo si sa un po' di più è stato il luogo dell'eccidio più efferato compiuto dalle forze naziste nel 44 sono state uccise 760 persone tra uomini donne anziani e persino bambini di pochi mesi questo ha comportato che la storia a Marzabotto è molto importante non solo è molto importante come memoria ma è molto importante anche dal punto di vista educativo perché nelle scuole ma anche a livello proprio di tessuto civile si parla molto di pace di risoluzione non violenta dei conflitti e di educazione proprio alla pace inoltre sto per finire promesso Marzabotto è anche un posto bellissimo perché è situato in un pianoro in mezzo alle colline quindi la natura è stupenda e un po' la vedremo e quindi tutti questi elementi cioè l'elemento della storia della memoria e della diciamo dell'educazione civile civica civile civica vabbè ci siamo capiti è molto molto importante vi vorremmo mostrare Sabrina ci ha preparato una cosa che credo vi piacerà molto che è un video fatto da una società che si chiama Pierre dove si sente la voce di Maria Angela Gualtieri la poetessa che è amica di molte persone qui e molto amata anche da molte persone qui che ha scritto queste cose che ascolterete dopo aver visto le opere di Sabrina ad una mostra che ha organizzato e mi dispiace che non c'è perché si è rotto un piede ma ha organizzato Mariella Utili anche questo serve a fare memoria che all'epoca che è stata nostra amatissima direttrice di Capodimonte ma che all'epoca era soprintendente di Parma e Piacenza credo va bene e che quindi aveva organizzato questa questa mostra in pilota di cui poi vedrete ma Maria Angela fu totalmente colpita dalle opere di Sabrina che ha scritto le cose che ascolteremo grazie si chiama paesaggi bello 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 mondo bello ridere di mondo in luce mattutina in colorazione di mondo con stagioni popolazioni animali bello mondo questo ricordo questo io lo ricordo bello molto bello mondo con cielo diurno e notturno con facce con facce che mi piacevano e musi e zampe e vegetazione che mi sospirava leggera leggera bello questo io lo ricordo bello molto bello mondo io ho avuto soccorso a volte da una piccola foglia da un frutto così ben fatto che dava sollievo a mio disordine di fondo sì sì stando molto fermi si crea una fessura perché qualcosa entri e faccia movimento in noi e ci lavori piano come capolavoro da ultimare a cui l'artista ignoto fa un ritocco con ispirata mano quasi demente tanto forte la spinta e delicata la certezza del tocco ecco il pensiero il divoratore stando fermi lo si può lisciare e pettinare e farlo stare giù steso e sospeso e riposto e composto un po' arretrato in sottofondo depotenziato tutto il presente esplode stando fermi giuro che io salverò la delicateccia mia la delicateccia del poco e del niente salverò il poco e il niente il colore sfumato l'ombra piccola l'impercettibile che viene alla luce il seme dentro il seme il niente dentro quel seme perché da quel niente nasce ogni frutto da quel niente tutto viene per tutto questo conoscere e amare eccomi per tutto penetrare e accogliere eccomi per ondeggiare col tutto e forse cadere eccomi che qualunque dei semi inghiottiti si farà in me fiore fino al capogiro del frutto lo giuro questo abbiamo fatto acciaio e carta tessitura di fili e di sostanze e questo siamo ultimo abbozzo prima dell'umano e questo difficilissimo parlare dopo questo veramente difficile va bene vi presento Sabrina Mezzacqui e niente mi viene da mi sono scritta delle parole di Mariangela che mi sembrano importanti come inizio sollievo ad un disordine di fondo Sabrina la tua famiglia è stata come per molti di noi una famiglia difficile direi che possiamo partire da questa immagine se ci racconti che cosa significa anche perché abbiamo visto il video iniziale che era proprio il video diciamo sì adesso la metto che era il video nel quale questi fiori venivano posti su un tavolo ok scusate sono io imbranata perché dovrò io fare questa cosa quindi mi imbranerò sicuramente abbiate pazienza questa è la prima ok si chiama a fare fiori sì buonasera a tutti devo fare una piccola precisazione su quello che hai detto prima della proiezione del video non tutte le poesie che avete sentito di Mariangela Gualtieri sono state scritte dedicate al mio lavoro solo un piccolo brano che dice per tutto questo conoscere ed amare eccomi in realtà l'unico sono state erano già state scritte le poesie di Mariangela me le ha donate su quelle immagini per una finità sì e allora questa prima opera che vi mostriamo si intitola Fare fiori è del 2017 ed è composta da circa 500 fiori di carta che sono stati intelati e ritagliati e questi fiori sono stati disegnati da mia madre nell'ultimo anno di vita dove trascorreva il suo tempo in una casa protetta l'ho voluto mettere come immagine introduttiva perché mi sono resa conto che è un lavoro in un certo senso collegatissimo a uno dei miei primi lavori di vent'anni prima del 98 che si intitola Le Mille Gru di cui vi faremo vedere a breve le immagini e vi racconteremo vorrei anche mostrare infatti l'opera dopo questi sono i fiori del mantello della regina delle nevi che era l'opera a cui stavamo lavorando collettivamente nel video con altre persone è un mantello fatto di fiori ma ogni singolo fiore è stato ritagliato petalo dopo petalo infilato con una perlina e poi tutti i fiori sono stati assemblati in questo mantello molto leggero ed è un lavoro collettivo ci ho lavorato con questo gruppo di persone a casa in quel periodo lavoravamo in casa mia non so forse un paio d'anni anche perché vabbè non è che lavoravamo tutti i giorni una volta alla settimana e l'opera è stata finita nel 2014 presentata alla galleria continua di San Gimignano mi sembra che era il 13 dicembre del 2014 e l'abbiamo conclusa lavorando col tavolo in galleria e le persone che entravano a vedere la mostra potevano sedersi con noi e realizzare fiori e questa che vedete è ovviamente l'immagine presa nella galleria di questi fiori che scendono di queste che sembrano quasi stelle quindi già stiamo vedendo delle cose importanti cioè innanzitutto questo momento diciamo difficile familiare si traduce all'inizio anche con una difficoltà di scelta nelle scuole nel senso che hai cambiato varie scuole e poi invece sei andato all'istituto d'arte e lì diciamo è avvenuto diciamo ti sei sentita a tuo agio ed hai conosciuto delle persone mi sembra importanti come Alberto Garutti Alberto Garutti è stato il mio professore in accademia non all'istituto d'arte all'istituto d'arte comunque ero ancora in fase movimentata dopo mi sono iscritta a due università diverse poi alla fine all'accademia però diciamo dopo questo periodo che tu dici movimentato c'è stato un attimo di pausa a Pantelleria dove sei andata quest'amore per le isole quindi questo bisogno diciamo di concentrarti su di te che poi ti ha iniziato a far fare questa pratica dello scrivere che poi è risultato in questo raccolta proprio di lettere e di scritti che si chiama l'ombra delle cose quindi è come se tu dall'isola poi dopo sei uscita fuori quindi ecco il lavoro diciamo delle mille gru ce lo racconti per favore sì allora le mille gru è un lavoro ma forse no forse coetaneo poco dopo sono andata nell'isola subito dopo allora le mille gru è un lavoro che sì collego idealmente ai fiori fatti da mia madre è ispirato alla memoria di un romanzo che lessi quando ero all'elementare in terza elementare che si intitola dal gran sole di Hiroshima e in questo romanzo si narra di una bambina sadako che viene colpita dalle radiazioni e quindi va in ospedale e in Giappone si crede che se una persona riesce a realizzare mille gru di carta gli dèi esaudiranno le proprie preghiere quindi questa bambina in ospedale inizia a costruire le gru allora all'inizio i medici i parenti la sconsigliano perché temono che lei si stanchi troppo invece poi si rendono conto che questa è l'attività che la tiene in vita infatti morirà alla 999esima o muore alla millesima no muore alla millesima nel romanzo e allora io ritagliando le fotocopie delle delle pagine di questo romanzo ho realizzato 999 gru di carta e poi sono disposte nello spazio che quindi questo è è già un segno molto importante cioè tu dal libro lo hai decostruito per costruire una cosa completamente diversa che esce fuori e appunto si espande quindi sì cioè diversa è come che tramite le pagine del libro creo un'immagine o una forma che però è generata dal libro sì rendo visiva rendo visivo il contenuto immediato il contenuto del libro sì questa è un'operazione che da lì ogni tanto faccio quello di portare fuori quello di perché in realtà il portare fuori quindi la relazione diventa la relazione le relazioni con gli altri diventa sempre più importante tanto è vero che Caroline Christophe attuale direttrice diciamo del castello di Rivoli ha scritto nel 2002 ama sentirsi in relazione con altri e predilige l'intimità dello scambio di doni reali o simbolici di conseguenza cerca dei modi per occupare il tempo e di tradurre in tracce fisiche quel tempo che trascorre quando è sola non in relazione e questo modo di fare che è un modo paziente e tenace di lavorare nelle opere ti ha consentito anche diciamo di entrare in relazione col tuo primo gallerista importante Massimo Minini con un'opera che hai titolato Cento di questi giorni ce la racconti? Sì poi dopo torniamo sulla citazione di Caroline perché all'inizio è vero che tutti questi lavori sono fatti da sola poi a un certo punto invece questi lavori sono resi possibili da un piccolo gruppo comunque questa è una trasformazione che è avvenuta nel tempo Cento di questi giorni allora ho finito l'Accademia nel 93 è l'ultimo anno e avevamo come professore di pittura Alberto Garuti e alla mostra di fine anno di noi studenti chiama in Accademia Bologna i suoi amici galleristi quindi venne Guenzani De Carlo e Massimo Minini questi signori noi eravamo tutti molto emozionati di questi sguardi sapienti così professionali e mi ricordo che in quell'occasione io presentai una delle mie prime opere che sento mie che erano i Baci Perugina cioè avevo sostituito i foglietti dei Baci Perugina con delle frasi prese da un mio diario privato erano frasi d'amore ed erano state tradotte confezionate stampate proprio uguali alle frasi dei Baci Perugina si poteva capire che erano un po' che non erano quelle originali perché non avevano un valore letterario erano frasi molto normali tipo cosa stai pensando Agnè cioè le cose che si dicono due persone in intimità e mi ricordo che questo e i Baci venivano offerti nella mostra al pubblico e mi ricordo che c'era chi non leggeva ci sono persone che non leggono le frasi dei Baci Perugina c'è chi insomma ognuno reagisce come vuole e il signor Massimo Minini lesse la frase e la mise nel portafoglio e io mi ricordo che dissi vabbè io da grande lavorerò con lui è stato un colpo di fulmine per me allora esco da una scuola quella di Alberto Garuti in cui c'era stato insegnato che non si andava più dai galeristi con la cartella delle opere era una cosa da non farsi e quindi mi sono chiesto un po' vabbè ma io come faccio a far sì che Massimo Minini si accorga di me e del mio lavoro fra l'altro appunto lui a Brescia io a Marzabotto e un giorno ho iniziato a spedirgli una lettera e gliel'ho spedita una al giorno per cento al giorno ha fatto stalking praticamente no era era un tentativo di seduzione e queste lettere non presentavano dei testi erano semplicemente buste tutte decorate a mano con i penarelli e anche il foglio dentro e c'era solo il suo indirizzo sopra e dietro il mio indirizzo ed erano numerate progressivamente e gliele ho spedite cento quindi vuol dire che la spedizione è durata circa tre mesi poco più e verso la fine il signor Massimo Minini penso tramite Art Diary perché in quel periodo c'era questa agenda ha trovato il mio numero di telefono e mi chiamò a casa e mi disse qualcosa tipo Sabrina grazie all'inizio non avevo capito niente poi invece mi hai messo in un meccanismo di attesa cioè io ogni giorno andavo nella bucchetta della posta perché era come ricevere un mazzo di fiori quindi diciamo il mio tentativo aveva funzionato perché lui mi ha detto vieni a trovare in realtà io sono stata presa da un attacco di panico non avevo niente da mostrarvi quindi ho detto no io non ci andrò mai ma il signor Massimo Minini che è veramente un signore alla successiva arte fiera a Bologna non mi ricordo stiamo parlando del gennaio non so 98 non mi ricordo ha mostrato le mie letterine nel suo stand io non lo sapevo mi ha rilanciato con una sorpresa e mi ricordo che i miei amici andavano in arte fiera e hanno iniziato a chiamarmi a casa dicendo ma Sabrina lavori con Massimo Minini insomma si era sparsa questa voce vabbè niente dopo da lì sono andata e ho fatto la mia prima mostra da Massimo nel 99 con delle opere che sono state realizzate in questo soggiorno nell'isola di Pantelleria dove sono andata in isolamento tre mesi d'inverno questa mia vocazione così inseguivo questa immagine letteraria dell'isola della solitudine e vabbè parto un'altra storia oltre alla solitudine mi piace dire che sei un'artista artigiana sia perché lavori manualmente insieme agli altri così come abbiamo rilevato ma anche per per gli strumenti che usi che sono degli strumenti proprio molto semplici di uso quotidiano lo scotch la matita il righello la carta e un'altra tua caratteristica un'altra caratteristica dei tuoi lavori è che lavori con estrema lentezza e pazienza lasciando proprio spazio allo scorrere del punto il bisogno di ordine di calma è proprio una caratteristica della tua opera che si vede anche in quelle successive che poi hai fatto nella mostra di cui abbiamo parlato queste sono le immagini della pilota questa è un'opera che è stata realizzata in qualche anno fra il 97 e il 2000 ed è un unico filo di perline le perline quelle piccoline in pasta di vetro il filo sarà circa 850 metri tutte rosse di rossi diversi e l'opera è semplicemente appoggiata quindi se si muove un po' il filo si disfa e basta non direi molto di più è intitolata Carpet Crawlers perché era il titolo di una canzone dei Genesis che ascoltavo quando ero una ragazzina e mi facevo i braccialetti con le perline in pasta di vetro e qui siamo in pilota dentro alla Galleria Nazionale a Parma dove mi è stata data da Mariella Utili che allora dirigeva tutto il complesso museale di Parma di fare questo laboratorio che avevo intitolato Appello ai Meditanti cioè avevo messo un volantino in giro per la città dove cercavo persone che facevano meditazione di qualsiasi tipo perché la ritenevo una pratica idonea a stare seduti a un mio tavolo di lavoro perché persone abituate o che comunque perseguivano il silenzio la lentezza eccetera e si era formato questo gruppo di meditanti meditanti quasi tutte donne anche qui c'era solo un uovo non so perché e lavoravamo in mezzo ai quadri e in questo caso l'opera che abbiamo realizzato abbiamo lavorato su teoria e pratica della non violenza di Gandhi puoi far andare avanti c'è un altro che è questa cioè taglievamo tutte le righe del testo di Gandhi e poi ogni riga diventava una perlina e alla fine abbiamo arrotolato questo lungo filo insomma simile ad altre opere che abbiamo già visto attorno a un tronco di un albero che era stato trovato lungo il fiume di Parma che non so come si chiama si chiama non mi ricordo quindi qui si vede quello che dicevamo prima cioè sono diciamo sono strumenti molto semplici carta ripresa diciamo da dei libri e un ramo trovato adesso che si usa molto questo riciclo questo riuso e invece diciamo qui lo vediamo molto molto ben utilizzato adesso viene una serie di opere diciamo che riguarda l'omaggio a Napoli perché appunto come dicevamo prima bisogna fare memoria e quindi nel 2007 c'è stata questa mostra molto bella di Sabrina con Angela Tecce direttrice di Castel Sant'Elmo che si chiamava Come acqua nell'acqua una cosa importante per Marisa come anche scusate per Sabrina come anche per un'altra artista che per lei è molto importante anche diciamo lo facciamo venire fuori questa cosa sono i titoli come acqua nell'acqua teorie pratica fare fiori un'altra artista che dava molto importanza ai titoli delle mostre come delle opere è proprio Maria Lai da cui probabilmente ci sono molte derivazioni e molti molti sguardi incrociati di nuovo e quindi parlerei di Anna Soros sì i miei titoli migliori sono rubati dai libri pari pari quindi e beh che però appunto parliamo di sinestesia sì e allora questa è un'opera che è stata realizzata appositamente per rispondere all'invito di Angela 2007 non mi ricordo mai gli anni di fare una mostra in questo posto bellissimo che era Castel Sant'Elmo e quando sono andata a visitare il posto bellissimo ero estasiata mi è venuto in mente che avevo letto questo racconto della Your Senar che è ambientato dentro a Castel Sant'Elmo che è l'amore di questi due fratello e sorella gemelli gemelli eh ci tengo sono mamma di gemelli scusate semplicemente ho ritagliato come già mio solito fare tutte le righe del libro del racconto e le ho rimpaginate seguendo la mappa stellare di Castel Sant'Elmo e questo è il risultato teoricamente il racconto è leggibile girando sempre intorno è tutto leggibile dice Angela una cosa che mi fa piacere sottolineare è che lo direi dopo però visto che parliamo della Your Senar forse è importante dirlo anche adesso che ti rifai molto a delle scrittrici pensatrici filosofi donne e poi lo vediamo anche in altre opere però mi fa piacere citare citare qui alcuni nomi quindi la le isole dove oggi siamo andati a farci una passeggiatina e abbiamo non visto le isole perché Capri era completamente nascosta ma ha fatto queste opere eccole queste Capri sì sempre nell'occasione della mostra allora disegnare le mappe delle isole è una cosa che veniva dal mio soggiorno a Pantelleria di anni prima è un disegno anche questo molto lento adesso non si vede molto dalle foto ma semplicemente col pennarello inizio a girare intorno al confine dell'isola e si forma un'orografia che però è immaginaria è una tecnica che facevo quando ero piccola ogni riga del pennarello lascia un segno indelebile e queste isole sono disegnate in questo modo e queste Capri queste Ischia sì queste Ischia e queste Procida la cosa che volevo sottolineare è che il curatore Castagnoli ha detto che il pensiero poetico sotteso a questo genere di lavoro gli ricorda molto a Lighiero Boetti quindi ecco un'altra citazione artistica che mi faceva piacere fare questi diciamo sono lavori in solitario però abbiamo detto che il tuo lavoro è prevalentemente adesso un lavoro collettivo e non solo quindi ci sono i tavoli di cui poi ti chiederò un po' meglio ma ci sono anche dei laboratori che tu hai curato e mi fa piacere ricordare anche perché è presente il tuo co-curatore di questo laboratorio chiamato preferirei di no che è tratto ci ho dovuto pensare che è tratto da Bartley lo scrivano e che parla di mitezza c'è qui sì c'è qui Roberto Roberto Piloni e quindi avete curato insieme questa cosa e vi cito solo una frase per farvi capire un poco di che cosa si trattava preferirei di no è lasciare andare fare vuoto dentro di sé lasciare il posto alle domande per far sì che qualcosa metta radice dentro di te aspettare il divenire della vita non sai cosa verrà ma bisogna avere la pazienza di aspettare hai fatto anche un altro laboratorio sull'ennea di Plotino non so se ci vuoi dire qualcosa se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ho appena detto se no andiamo avanti vedi tu sì ci sono tante piccole cose poi magari alcune verranno fuori continuando a parlare delle opere questa mia disciplina lenta alla pazienza alla solitudine è stata possibile per un po' poi quando ho iniziato a lavorare con due non con una con due gallerie non riuscivo a finire i lavori in tempo l'altra galleria scusami la galleria continua mi sembra importante dirlo perché è una delle più importanti gallerie italiane scusa e nelle internazionali quindi questo del lavoro collettivo è stato proprio un dono cioè arrivavano in certi periodi le persone a casa e mi aiutavano a finire i lavori ma così perché erano i miei amici e le mie amiche allora dopo ho scoperto che a queste persone piaceva fare le cose che facevamo che erano cose semplici infilare perline tagliare striscioline di carta riempire dei quadretti a matita e ricalcare i quaderni di Simon Veilo di Anna Arendt e quindi si è proprio strutturato un gruppo che si è autoformato tant'è che poi negli ultimi anni il comune di Marzabotto mi ha offerto una sala pubblica quindi a Marzabotto al venerdì pomeriggio nella sala polivalente a fianco della biblioteca ci troviamo e lavoriamo al momento per esempio stiamo ricalcando i quaderni di Etilesum il lavoro nuovo che abbiamo iniziato questa è una cosa e poi nel frattempo in varie situazioni come è successo a Parma con l'appello ai meditanti o in Accademia a Roma tramite Roberto Piloni sono stata chiamata ad attivare dei laboratori quindi a condividere dei momenti in un gruppo di lavoro di riflessione i tavoli di Plotino è un tavolo mobile che si sposta tra San Gimignano Maccastorna viene ospitato in alcuni luoghi da alcune persone che stanno collaborando e lì stiamo lavorando sulle Ennea di Plotino stiamo tagliando tutte le parole del testo greco poi cosa succederà non si sa perché fra l'altro molte di queste attività in questi anni sono state sospese quindi adesso c'è tutto un momento di ricostruire le comunità perché bisogna un po' ricucire vabbè insomma questo sì una cosa che vorrei dire è che ho letto proprio sul catalogo dell'Appella ai Meditanti una testimonianza di una delle persone diciamo che ha fatto parte di questo tavolo e che è mi ha ricordato una cosa che facciamo ormai noi amiche storiche da trent'anni che è quella di fare gli struffoli a Natale cioè nel senso che non è solo il lavoro comune ma è il raccontarsi il parlare il ridere il piangere l'incazzarsi insieme ed è una cosa veramente meravigliosa quindi non mi risulta diciamo non mi sorprende il fatto che le persone che sono state chiamate magari nella disperazione da Sabrina le prime volte poi dopo invece abbiano voluto partecipare a questi tavoli perché la pratica del lavoro artistico di Sabrina è questo cioè è il lavoro della della pazienza femminile ma non solo cioè nel senso che poi parleremo anche di questo ma proprio come come una meditazione quindi è un lavoro sociale socievole meditativo che calma cioè la cosa che mi ha mi ha anche colpito che ha detto questa persona era proprio questo che poi tra l'altro ho riscontrato io con le mie amiche quando facciamo gli struffoli a Natale e tu hai usato una parola che mi fa piacere diciamo riprendere che abbiamo già anche utilizzato che è quella dell'idea del decostruire per costruire qualcosa di nuovo questo è il gioco delle perle di vetro che ricorda in qualche modo un pallottoliere ce la racconti? sì beh queste sono le righe del libro di Herman S e ah ok grazie e niente sono state elaborate come al solito rotolate ho composto queste 992 perle ogni perla è una pagina del romanzo e anche nel romanzo si parla di questo gioco delle perle di vetro come di un pallottoliere dove sono compresi tutti gli aspetti del sapere no? è un gioco molto complesso che fanno questi monaci ma niente insomma io ho realizzato volevo solo dire due cose sulle cose che abbiamo detto che io qui guarda caso ho due cataloghi che sono quelli della mostra di Castel Sant'Elmo e quelli della mostra dell'appello ai militanti dopo se volete li lascio qui perché poi dicevamo che forse lasciamo grazie per averlo detto un po' di tempo per delle domande se volete insomma dopo che abbiamo quindi pensateci dopo vi interroghiamo se non siamo esausti e la persona che hai citato è Silvana è un'amica che fra l'altro non c'è più quindi mi ha toccato che va bene procederei e sì allora hai nominato i monaci e quindi direi di andare su questi su queste opere non voglio dire niente perché lascio sicuramente la parola a Sabrina dove però ti pregherei di far notare l'interreligiosità e la spiritualità della se vuoi dimmi tu quando devo cambiare ok sì sì allora questo è il Corano non si vede tanto bene comunque anche questa è un'edizione araba del Corano e anche in questo caso sono state tagliate tutte le righe del testo rimontate arrottolate insomma alla fine abbiamo perché anche questo è un lavoro il gioco delle perle di vetro l'ho fatto da sola invece questo il Corano l'ho fatto aiutata dal tavolo di Marzabotto e alla fine abbiamo ottenuto un tappetino da preghiera e ho lavorato già forse prima e come sia anche su testi della Genesi o la Bhagavad Gita insomma perché penso che i testi spirituali sono patrimonio dell'umanità quindi ci sono indicazioni o percorsi di saggezza cui tutti possiamo attingere sono molto preziosi secondo me e quindi insomma questo mi li tocco tutti con grande interesse direi questo questo invece è un'opera che ho realizzato attingendola pari pari le indicazioni tecniche dalla favola della regina delle nevi di Anderson perché dentro alla favola il bambino rapito dalla regina cattiva bellissima ma cattiva lei gli dice che se lui riuscirà a scrivere la parola eternità col ghiaccio lei gli regalerà dei pattini nuovi allora questo bambino ci prova ma è difficile non ce la fa e allora io ho realizzato la parola eternità col ghiaccio che però puoi andare avanti è un lavoro che dura mezz'ora dipende dal clima circostante e diventa acqua invece questo a proposito di testi spirituali insomma è il cantico dei cantici nella Bibbia di Gerusalemme e siccome è un canto a due voci appunto c'è un uomo e una donna che si rincorrono e si parlano ho ritagliato due copie del testo e le ho rintrecciate in modo che il testo si ricomponga perfettamente che è un po' la stessa cosa che avevo fatto a Castel Sant'Elmo anni prima con la mappa di Itaca è molto bella questa cosa dell'intreccio delle voci che diventano intreccio nell'opera e che diventa intreccio diciamo di pensieri spirituali giusto così per vostra curiosità vi voglio dire posso dirlo? che quest'opera è stata venduta in in Arabia vabbè crediamo che sia stato venduto in Arabia quindi è interessante questa cosa che il canto dei cantici che è una storia d'amore ma che fa parte della nostra Bibbia poi abbia trovato uno spazio in un altrove molto altrove sì e in questo caso mi piaceva che ho tramite la tessitura delle righe ho ridato al testo una sua forma originale in rotolo no? come erano le le antiche Bibbie perché questo si arrotola con dei rami raccolti eh raccolti che questo anche mi sembra bello importante e anche molto poetico cioè perché sono cioè vabbè per me è poesia allo stato puro tra l'altro tutte le tue opere hanno qualcosa di molto fragile non sono mai monumentali non sono mai urlate sono sempre sussurrate infatti una delle parole che viene usata spesso dalle persone che hanno scritto su di te è proprio la parola gentilezza allora questo è un romanzo che si intitola che tu sia per me il coltello di David Grossman forse è il controcanto al cantico dei canti c'è un romanzo d'amore anche questo e ha un'intensità emotiva secondo me fortissima ci ho messo tantissimo a leggerlo e allora ho tolto tutto il bianco tra le righe ho lasciato tutto il testo ma non c'è più il bianco col bianco che ho tolto dalle righe ho fatto una collanina lunghissima che esce tutto qui tutto qui tutto qui è semplicissimo domani mattina lo facciamo va bene allora passiamo a questi lavori bellissimi anche loro che hai mostrato anche all'inaugurazione di questa bellissima fondazione che ha aperto a settembre a Milano che si chiama Fondazione Robati che è una cosa stupenda meravigliosa che ho avuto l'opportunità e il privilegio di andare a visitare recentemente con Angela e in questo catalogo della Fondazione Robati che tra l'altro ha aperto con una mostra di ho guardato Angela quindi ho detto Angela ha aperto con una con una mostra di Sabrina e la Fondazione Robati ha sia una parte che riguarda l'arte contemporanea e sia una parte tutta la parte diciamo del basamento veramente che vale la pena di andare a vedere dove c'è una collezione etrusca di arte etrusca e nel catalogo hai scritto uso la scrittura mia e degli altri come strumento di meditazione ci racconti di quest'opera sì quest'opera si intitola Autobiografia del Rosso e sono 33 libri che ho prelevato dalla mia libreria personale e sono tutte o autobiografie diari o memorie e varissimi sono quelli che ho raccolto negli anni evidentemente è un genere che ho sempre prediletto c'è il diario del C in Bolivia c'è Virginia Wolf c'è il diario di Anna Frank c'è il diario di Anna Frank non mi fa dire devo guardare no no potrebbe esserci non lo so c'è la lista non lo so sì sì potrebbe essere c'è vari e questi libri li ho tutti rincartati memore di quando si andava a scuola e si incartavano i libri con delle carte rosse tutte diverse sono una collezionista anche di carte di quelle belle fatte a mano un po' pregiate raccolte in giro per il mondo e basta e poi un amico caro che è lo stesso che ha fatto l'albero dei fiori della mia mamma un amico falegname filosofo ha realizzato la scrivania e lo scabello allora volevo dire una cosa prima che non ho detto a proposito dei tavoli di lavoro di Sabrina e di Marzabotto che uno delle persone che ha partecipato per molto tempo a questi tavoli era un uomo che a 16 anni diciamo è stato testimone dell'eccidio quello che voglio dire è che attorno a questi tavoli si intrecciano storie e questo mi sembra importante quindi la storia il racconto è non solo la storia il racconto del libro ma diventa storia il racconto di ciascuno di noi del personale e dico questo e sto enfatizzando su questa cosa del cammino che ciascuno di noi fa come storia perché lo vedremo alla fine vi voglio dire però e voglio leggere anzi una cosa che ha scritto questo famoso gallerista di cui stiamo parlando poverino speriamo che non cade per le scale come si dice a Napoli che è Massimo Minini che ha detto che Sabrina con la dolcezza che le è propria prende le persone per mano e in punta di piedi le accompagna e così le persone vedono svelarsi ai propri occhi un racconto che riempie il vuoto degli spazi con la poesia continuo affermando che i lavori di Sabrina non sono solo un elegante omaggio alla bellezza della scrittura ma un regalo che l'artista fa ad ognuno di noi un alfabeto nuovo per guardare il mondo con occhi diversi non a caso un'altra diciamo delle critiche che hanno scritto su Sabrina parla dell'opera d'arte di Sabrina come dono le tue opere come abbiamo detto fanno riferimento moltissimo a figure femminili come dicevamo Anna Arendt Margherita Jorsenar El Itesu Simone Weil e vi mostro sì questi sono i quaderni di Anna Arendt un particolare i quaderni in tutto sono 29 e anche questo è un lavoro che è durato parecchi anni le copertine sono fatte in stoffa da un'amica cara e sono state ispirate al periodo del Bauhaus che era il periodo in cui Anna Arendt studiava a Berlino e niente anche questo è molto allora i ricalchi vengono fatti sulle edizioni italiane perché il ricalco e la ricopiatura diventa una forma di lettura ecco quindi non lavoro sui testi originali perché non sarei in grado di comprenderli e anche per queste operazioni di ricalco abbiamo lavorato sui quaderni di Simon Weil su quelli di Anna Arendt e adesso stiamo iniziando con i quaderni di Etty Illesum sono dei lavori collettivi perché da sola non so quanto tempo dovrei dedicarci c'è tutta una fase quella di ricalco che può essere fatta da chiunque l'unica cosa che faccio personalmente io è l'ultimo passaggio con l'inchiostro sul ricalco a matita perché secondo me c'è bisogno di un'unica calligrafia e in questo caso insomma è la mia l'importante è che sia di un'unica persona perché sono stati scritti da un'unica persona e questa è un'altra immagine l'immagine successiva questo è un lavoro che è stato realizzato nell'estate del 2020 improvvisamente dopo la chiusura che era durata fino a maggio c'è stata una fondazione la fondazione Elpis che ha sede a Milano che ha lanciato questo progetto ha invitato 20 artisti e ogni artista ha dato la possibilità di progettare un'opera per un borgo italiano in una regione quindi 20 artisti 20 regioni 20 borghi ci veniva pagata la produzione del progetto insomma è stato un gesto generoso dopo i mesi che non si poteva né uscire né lavorare ovviamente erano l'indicazione era di cercare di fare un'opera che stessa all'aperto perché non si sapeva ancora cosa e per me era una prova difficilissima perché lavorando quasi sempre con la carta e allora e poi sono stata mandata in basilicata lontanissimo quindi vabbè ero ho realizzato ho pensato a questo momento e ho realizzato mi sono ispirata alle bandierine tibetane dove come diciamo oggetto sacro il fine sono delle preghiere stampate su della stoffa che rimangono nel vento e nel sole fino a che scompaiono come che vanno nell'aria vanno in cielo allora invece di stampare delle preghiere tibetane ho preso delle poesie di poeti italiani viventi ho preso 11 poesie per tre poeti quindi alla fine sono 33 poesie 33 è un numero legato al sacro e i tre poeti sono Mariangela Gualtieri Candra Livia Candiani e Franco Arminio ed erano sono tutte poesie che hanno a che fare con la cura perché mi sembrava un momento in cui avessimo bisogno di benedizioni nel senso di benedire dire il bene ecco e queste poesie sono state esposte a pisticci nella parte alta terra vecchia un punto alto sulla murgia e sono state lasciate al vento per un mese poi alla fine quando le abbiamo tolte sono circa 850 le bandierine le abbiamo bruciate con Franco Arminio che leggeva vicino al fuoco dei brani sulla cura questo è allora questo invece siamo nel maggio del 2021 Bologna oratorio San Filippo Neri in occasione della fiera che era stata spostata a maggio in città a Bologna organizzano degli eventi che si chiama Art City e quindi per cinque giorni io avevo disposizione l'oratorio San Filippo Neri che è un posto bellissimo e siccome venivamo di nuovo da un periodo di chiusura eccetera ed ero finalmente invece nella mia città ho pensato che ogni mattina andavo all'oratorio insieme a una mia collaboratrice bravissima realizzavamo a pavimento un mandala è grande sono circa cinque metri di diametro con degli elementi metallici che mi erano stati in parte donati da un fabbro di Scandici sono degli elementi con cui lui realizzava i lampadari sono foglioline fiorellini stelline eccetera e lavoravamo circa quattro cinque ore alla mattina poi alle due si apriva e quindi era visibile un mandala e la mattina dopo lo disfavamo e ne facevamo un altro questo per cinque giorni il lavoro si intitola l'abilità di mutare con le circostanze lavoravamo senza progetto era come cantare insieme in un coro devo dire che lei era bravissima lei è bravissima questa ragazza ha delle doti compositive geniali e io la seguivo e questo è e questo è un particolare dove si vedono un po' meglio gli elementi che usavamo anche questo ovviamente è un'opera super impermanente cioè non c'è c'è solo quando viene appoggiata poi un po' come il filo di perline come altre cose che durano poco durano un po' allora questo è l'ultimo lavoro che vi mostriamo e si intitola Bianco naturale ed è stato realizzato e ci ricolleghiamo anche a Mariangela Gualtieri ero stata invitata da Mariangela e il teatro Valdocca a Cesena facevano una rassegna e forse la fanno ancora che si intitola Ciò che ci rende umani e invitano anche artisti poeti a fare dei laboratori a me era stato consegnato l'impegno di fare un laboratorio che si intitolava Meditazione delle mani anche lì ho fatto un appello tipo quello che avevo fatto ai meditanti di Parma e si sono iscritte 18-20 persone lavoravamo in silenzio nella biblioteca malatestiana che c'è a Cesena abbiamo lavorato per circa tre giorni ogni tanto qualcuno era invitato a leggere dei brani sulla manualità su questo dono che abbiamo delle mani e di come possiamo usare le mani e il lavoro era tagliare delle foglioline di carta e poi infilare una fogliolina e una perlina una fogliolina e una perlina in questa lunga collana che alla fine non mi ricordo quanti metri è diventata vabbè e circa 90 metri e poi una una persona di questo tavolo era una ceramista per cui ho commissionato questo guscio sottilissimo tipo uovo sarà un oggetto grande più o meno come questo tavolino per darvi delle dimensioni e poi il lavoro viene installato spargendo spargendo della polvere della polvere di marmo a terra e anche riproducendo con la polvere le foglioline similmente a quelle che sono dentro al contenitore in questo caso è stato fatto a Roma in Santa Rita e con l'aiuto anche di Baor che è qua perché anche questo non solo nella realizzazione ma anche nella installazione se si fa in qualche persona insomma è più agevole e anche piacevole e quindi noi adesso faremo vedere sì adesso facciamo vedere diciamo come queste cose sono state prodotte però io a conclusione diciamo volevo farvi notare quello che per me è stata la parola chiave di stasera cioè credo che stasera abbiamo aggiunto un tassello molto importante al nostro costruire comunità e cioè che tutto quello che Sabrina fa e che fa insieme agli altri in realtà lo riesce a fare lo riesce a fare così bene riesce a donarcelo grazie al fatto che lei ha lavorato molto su di sé sulla sua presa di coscienza di posizione sulla sua spiritualità e quindi il tassello è che secondo me bisogna partire dal sé per poter incrociare lo sguardo dell'altro quindi questo mi premeva dirlo e adesso vi facciamo vedere mentre vi facciamo vedere quest'altro video pronto forse vi inviterei diciamo abbiamo ancora dieci minuti mi farebbe veramente piacere moltissimo ma non solo a me anche a Sabrina se anzi mi alzo così vi costringo se insomma facesse dei commenti delle domande delle cose Floriana no scherzo domande commenti ah brava Barbara Barbara io sarà anche una mia impressione ovviamente ma in queste scelte in queste opere in questo materiale sento molto la caducità dell'opera stessa è una scelta perché la fragilità del mantello la fragilità di questi fiori il marmo il mandala cioè c'è proprio questa voglia del sapere che poi c'è un disfacimento questo volevo sapere guarda lei secondo me c'è la realtà dell'impermanenza e senza che ce lo ricordano i buddhisti in modo appunto molte di queste immagini vengono dalla loro ritualità che è tutta giocata su questo anche il mandala viene fatto chicco di polvere non so ci mettono un mese e poi in un secondo con un soffio il rito si compie nella sparizione però per me questo fascino viene da tutt'altra storia che erano mi ricordo quando in accademia si studiava il barocco rimasi fulminata dal fatto che non so alla corte si lavorava tre mesi per preparare la festa che si consumava in una notte e secondo me questa immagine era potentissima era mi sembrava bellissima non so si sento un fascino però anzi a me il fatto che una cosa non duri mi mi appassiona ancora di più a farla al meglio mi suscita questo quando insomma non sono troppo anch'io strappata di qua e di là dalle cose dalla vita marina melone è una scienziata del cervello grazie monica io sono particolarmente emozionata devo dire ringrazio molto monica di avermi invitato a essere qui con voi io credo che l'impermanenza a cui lei fa riferimento è piuttosto una spinta alla trasformazione perché tutto ciò che rimane è una forma che si trasforma ma comunque rimane nella sua forma e devo dire che questo tipo di sensazione è anche molto molto legata alle persone a cui lei si è ispirato io conosco molto bene le opere delle scrittrici delle donne a cui lei si è ispirata e mi sono venuti in mente altre un'altra donna particolare una poetessa premio Nobel che è Vislava Zimbosca la quale è stata capace di lavorare sulle piccolissime cose così come ha lavorato sulle piccolissime cose Cristian Bobin il grande poeta francese da poco scomparso e lavorare sulle piccole cose ha significato almeno per Vislava Zimbosca essere molto vicina e valorizzare le coincidenze ecco volevo sapere quanto le coincidenze hanno tracciato o in qualche maniera segnato sì tracciato segnato o utilizzato per le sue opere vuoi rispondere ce ne ho altre due facciamo le altre due così ci pensi Maria Luisa Firpo buonasera ha degli orecchini bellissimi grazie volevo chiederle questo mi interessa molto il concetto di comunità di lavorare insieme no? lei ha detto che appunto a un certo punto ha cominciato a lavorare in compagnia e che questa cosa in qualche modo aveva le ha permesso di fare cose in tempi diversi e con anche la piacevolezza dello stare insieme sicuramente questa cosa ha significato moltissimo per chi lavora con lei per chi è entrato in contatto con l'arte con il gesto con la manualità con il tempo di portare avanti discorsi di questo tipo mi interessa capire invece cioè capire meglio dal suo punto di vista che cosa è cambiato e se c'è qualcosa che non avrebbe fatto senza il lavoro di comunità cioè se c'è qualche opera che è venuta fuori per questo o se o se solo diciamo la questione del tempo dello stare insieme della piacevolezza o se c'è anche qualcosa in più che le è venuto da questo grazie che altro c'era? mi sono domenica Floriana Floriana Coppola insegnante scrittrice poetessa ahimè mia amica diciamo prima amica infatti amica penso che è una parola che è venuta molto spesso oggi fuori dalla narrazione di Sabrina non solo amica ma ho sentito anche molto questa capacità di utilizzare la la materia fragile per una meditazione sulla vita e sulla morte attraverso una preghiera corale fatta in silenzio con le cose e mi ha molto emozionato l'ho sentita molto vicina in questo anche questo bisogno di silenzio e di riuscire a passare attraverso varie stanze la stanza della solitudine la stanza del laboratorio e in questo passaggio una grazia che è arrivata qui con grande delicatezza e grande fragilità ma che ci ricorda che la vita è un soffio e in questo soffio c'è tanto c'è tanto sguardo bambino quella capacità che hanno i bambini di sospendere la vita tra le cose e lei li ha riportati ogni tanto dei ricordi dell'infanzia e mi dà molto io questo credo che è stata capace di riportarci questo filo del passato all'interno di questo suo progetto la ringrazio ringrazio Monica per questo incontro turno tuo sì no dico solo due piccole cose uno sulle coincidenze o anche sincronicità non lo so secondo me se uno fa certi percorsi si apre si aprono le antenne e si colgono ma queste succedono sempre intorno a noi mi è venuto in mente che qualche sera fa ho riguardato un film sulla poesia Patterson di Jim Jarmusch non so se qualcuno di voi l'ha visto comunque lui si sveglia la mattina e la sua compagna gli racconta che ha sognato di avere dei gemelli dei gemelli ah si vedi c'entra sincronicità di nuovo e lui da quel momento nei giorni inizia a vedere un sacco di coppie di gemelli è come che ti si accende uno sguardo non so mi viene da dire questo sulle coincidenze così che si rivelano nelle nostre vite sulla comunità sul lavoro in gruppo allora le cose che ho fatto condividendole con delle altre persone non credo che avrei potuto farle diversamente sì magari sono opere che non abbiamo visto qua i primi aiuti sono arrivati per terminare delle cose ma i lavori che sono nati fin dall'inizio condivisi con altre persone questa cosa c'entra tantissimo non è non avrei non li avrei fatti penso non mi sarei neanche avventurata e il problema è che dopo genera dipendenza c'è stato il periodo che non ci si poteva vedere che tutti si immaginavano che io lavorassi tantissimo chiusa in casa ma invece mi sono resa conto che mi piace moltissimo questa condivisione del lavoro e adesso delle volte mi devo disciplinare per indurmi a sedermi da sola alla scrivania per esempio autobiografia del rosso è un lavoro che è venuto da sola io al cospetto con la mia libreria i miei libri preferiti però sì insomma no mi piace molto questo fatto del condividere il lavoro io ci tenevo a ringraziare nel grande discorso della Puglia io penso nel grande discorso della Puglia tiene conto del rapporto con l'altro quindi credo che questo sia veramente straordinario la voce la voce speculiana di questo di questa teatria allora io volevo ringraziare Sabrina sicuramente per questa generosità del darsi che veramente è difficile difficile per un artista parlare del proprio lavoro e parlarne in maniera così sentita quindi veramente grazie un grazie grande a Sabrina un enorme grazie con applauso grazie per per Angela Tecce che ci ha ospitato e un grandissimo grazie a tutti quanti voi anzi a ciascuno di voi perché si parte dall'uno per guardare l'altro questo è importante grazie 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 grazie